il fatto che tu sia considerato una specie di antidivo è è un modo per essere divo o è una roba vera se antidivo significa che lavoro poco c'è scritto no antidivo nel senso che non sei quello che sta sulle copertine patinate che non si fa ma sì perché perché tago spia non ti ma no a me mi ha colpito una volta mi è sembrato di capire tutto sono andato ma una di queste manifestazioni che ci sono ogni tanto in italia questi premi grossi e allora insomma mi sono fermato i fotografi mi hanno chiesto solfrizi solfrizi girti qua io scherzando detto ma che mi fotografate a fare tanto poi non le pubblica nessuno queste foto queste foto infatti per essere fotografato andare sul giornale dei morì ho fatto come devo morì perché loro dicono sei sposato non c'hai una vita che non ci dai ho fatto dei morì a perché se muoio ma se vado sui giornali e l'altro mi ha risposto dei morì drogato capito perché perché non bastava capito questo ci deve ho capito che insomma difficilmente faccio notizia e Grazie a tutti.